Oggi l'Asla Napoli 2 Nord si pone come punto di riferimento per varie discipline, tra questa sicuramente c'è quella della cardiologia. Il congresso di oggi ormai è un appuntamento fisso regionale che acquista anno dopo anno sempre una valenza scientifica maggiore e noi non possiamo essere che contenti di questo. Anche l'Isola Dischi è un punto di riferimento per la cardiologia dell'Asla Napoli 2 Nord? Ma certamente, dovunque ci sia una cardiologia penso che c'è un punto di riferimento per i pazienti che sicuramente non si sentono abbandonati. Direttore, qual è il bilancio invece della cardiologia ischitana che forse soffre la posizione oltre il mare? Sicuramente i medici sono di qualità, probabilmente manca il personale. Sì, la cardiologia ischitana è una cardiologia di qualità. Presenterò a momenti quelli che sono i dati dei numerici per quanto concerne il numero delle sindrome coronariche acute, per quanto concerne l'impianto di Pesmeca e altri device come ICD la problematica rimane quella del turnover dei medici. È un problema difficile, l'azienda si è mossa con un concorso, un avviso pubblico e purtroppo al momento non si è trovata una soluzione definitiva. Certamente c'è stata la massima solidarietà e la massima sussidiarietà anche in termini di personale, appunto, nell'ottica di una squadra. Il congresso rappresenta una squadra tra tutte le cardiologie, quella di Pozzuoli, di Giuliano, di Fratte e di Ischia. E quindi stiamo cercando di surrogare, nelle more decisioni che spetteranno poi all'azienda, quella che è la mancanza attuale dei medici, che è una mancanza purtroppo dovuta alla condizione logistica dell'ospedale e a quello che è stato attualmente il turnover che si è sbloccato dopo molti anni e le diverse possibilità che hanno i medici attualmente di entrare negli ospedali e quindi di fare delle scelte che spesso purtroppo sono temporanee, come è successo per Ischia.